ci chiamo di inviare la promessa guarda lo chiesa che vi sono di un uomo che siamo umili santo misionero aiutaci tu e quei ragazzi che tu chiamerai donna la forza di non porre resistenza ascoltaci signore ascoltaci signore allora se c'è qualche ragazza che sente che senti che io sta chiamando voi che sta chiamando si maturare un po' che è senti e un po' che è senti e un po' che è senti grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.